Ci sono esempi illustri dell'antichità che tutti conoscono o di cui per lo meno tutti hanno sentito parlare, dai giardini pensili di Babilonia, quindi una delle sette meraviglie del mondo, fino ai giardini imperiali della Persia a Chemenide, quella che poi è stata conquistata da Alessandro Magno e con la conquista di Alessandro Magno il modello del giardino persiano che era un piccolo abrégé dell'universo nel quale il gran re persiano si comportava come il signore del tempo e dello spazio, questo modello universale di giardino passa poi al mondo latino, greco latino, al mondo classico come usiamo noi dire e poi al mondo cristiano, il mondo cristiano però vi mette anche un altro tipo di fonte fondamentale che è quella della Bibbia, quindi il Genesi, l'Eden, il cosiddetto giardino terrestre, la caduta, la perdita di questo equilibrio, di questa bellezza, di questa beatitudine primigenia e la volontà dell'uomo di recuperarla attraverso il suo genio, attraverso il suo lavoro, attraverso la sua fantasia e quindi in un certo senso ricostruire il giardino è un'opera di Mimesi rispetto all'operazione divina dell'impianto del giardino dell'Eden e nello stesso tempo è anche in qualche modo una sfida a Dio, quindi c'è anche un elemento se si vuole diabolico, di superbia, di orgoglio nel giardino, non a caso nel giardino dell'Eden c'è Satana sotto forma di serpente. Chiarissimo, come sempre, lei ci porterà degli esempi precisi questa sera? Sì, purtroppo gli esempi non saranno tali da poter percorrere l'intera parabola del giardino medievale che parte dall'antichità, arriva al rinascimento e nel giardino rinascimentale molte cose cambiano, però nello stesso tempo esiste un'eredità sia classica sia medievale che resta anche nei grandi esempi di giardino rinascimentale come quello di Boboli o il sacro bosco dei mostri di Bomarzo. Evidentemente non potremo arrivare a quello, ma metteremo, diremo alcune cose per poterci introdurre anche a quei modelli. Evidentemente parlando di giardino medievale il discorso partirà e non è possibile che parta altrimenti dai chiostri monastici, proprio come riproduzione del paradiso terrestre, una riproduzione non casuale ma volontaria e si snoderà attraverso un altro capitolo importante della dinamica del giardino medievale che è l'incontro con l'Oriente musulmano che a sua volta riporta nel mondo medievale qualche cosa che già nel mondo medievale si conosceva attraverso la tradizione classica che era erede del modello di Alessandro Magno. Però il ritorno al giardino medievale, del giardino medievale a questi esempi antichi attraverso la mediazione dell'Islam rinnova completamente la tematica dei giardini anche perché il mondo musulmano porta in Europa questa straordinaria abilità nel gestire per esempio le acque nella organizzazione, nella distribuzione delle acque e che naturalmente diventano un vocabolo fondamentale nel giardino. Dopodiché attraverso il basso medioevo si potrebbe dire la conquista borghese, fra virgolette, di un genere di vita che prima era soltanto feudale e signorile e si arriverà appunto a un ulteriore rinnovamento attraverso il giardino umanistico, giardino umanistico che impianterà un vero e proprio discorso filosofico sul giardino e le tappe di questo discorso si vedono già nel romano della Rose del XIII secolo, nel Decameron del Boccaccio e questo ci permette di arrivare al vero e proprio giardino umanistico e allo sviluppo di un discorso propriamente filosofico fondato sul raggiungimento della piena coscienza di sé e quindi sul raggiungimento della saggezza filosofica attraverso il viaggio nella natura ordinata che è il viaggio del giardino. E qui l'ultimo testo da citare dopo Romande la Rose e dopo il Boccaccio sarebbe, anzi è senz'altro, questo capolavoro della filosofia del giardino rinascimentare che è la cosiddetta ipnerosomachia polifili, il sogno di Polificlo di Francesco Colonna che è un vero e proprio trattato di filosofia del giardino o se si vuole un trattato filosofico del giardinaggio.